onda su onda il mare mi ha un po' emozionato di fare questo concerto la toglie una curiosità perché non ha preso l'aereo dimmi una cosa ma tu sei più cuoco più psicologo o semplicemente cacacazzo cosa vuole da me questo cantante mediocre parla parla ma che cazzo parla una corda vocale bloccata mi servono i soldi sto concerto lo devo fare io ho trovato la che lo fa a posto mio e se non posso cantare la colpa è tua io sono la responsabile del concerto il signor cristofori dove? dove è? geogè cristofori sono io mi posso fidare di te chiamami geogè hola rosalva per me ci hanno creduto andiamo a sprigionare il tuo sex appeal da troppo tempo sopito dopo il concerto dobbiamo parlare signore e signori geogè cristofori e gli ammodonati del ora ci sono organizzati una cosci con le ragazze trattando l'entusiasmo ora sai mi secreto hai una figlia ma mi state prendendo giro Dove fessare il vuoto ogni tanto sopito in me che il pubblico deve pensare a questo nuovo cazzo, guarda. Ma sai che può funzionare perché si distrae dal pensiero, ma questo come cazzo canta.